Grazie a Rai Mobilità e ora parliamo di un tema purtroppo molto attuale, ovvero le aggressioni agli operatori sanitari, di cui peraltro si celebrerà il 12 marzo la giornata nazionale, proprio per sensibilizzare su questo tema. Abbiamo piacere di avere ospite quest'oggi a Buongiorno Regione la dottoressa Nicoletta Sias, dirigente medico della direzione regionale INA in Liguria. La notizia delle ultime ore, lo dicevamo, che saranno rafforzati i posti di polizia negli ospedali secondo le direttive date dal Ministero dell'Interno proprio per ovviare a questo problema. A Genova sono già operativi i presidi negli ospedali San Martino e Galliera e sono in fase avanzata i lavori che consentiranno un posto di polizia anche nell'ospedale Villa Scassi nel pronto soccorso. Nei giorni scorsi invece è stato ripristinato il presidio nell'ospedale di La Spezia, ma proprio su questo vediamo la scheda di Paolo Bertuccio. 49 episodi, quasi uno alla settimana. È il bilancio dell'aggressione e i danni del personale sanitario alla Spezia e provincia nel 2022. A fotografare il fenomeno è un report dell'Asle 5 da cui si evince come siano i punti di pronto soccorso, i luoghi dove l'incolumità di medici e infermieri è più minacciata. Il 47% degli eventi si è verificato lì. Gli aggressori sono stati tre volte su quattro pazienti. Nella quota residua i protagonisti negativo sono invece stati i parenti. A farne le spese il personale che più a lungo è a contatto con pazienti e familiari, gli infermieri, vittime del 77% delle aggressioni. Due volte su tre l'atto ostile si limita alle parole, ma non per questo la cosa non ha conseguenze sull'operatore sanitario. In una ventina di casi sono stati riscontrati danni psicologici sulla vittima. In due occasioni c'è stato bisogno di cure per lesioni. Solo nel 10% dei casi l'aggressore è stato denunciato, mentre le forze dell'ordine sono intervenute in una sola occasione. Ma fino a pochi giorni fa il posto di polizia dell'ospedale della Spezia era chiuso. Si spera che la recentissima riapertura faccia da deterrente nei confronti dei potenziali aggressori. Ecco allora, dottoressa, noi qualche numero l'abbiamo sentito nel servizio di Paolo Bertuccio, ma di che dimensioni si parla di questo fenomeno in Italia e in Liguria nello specifico? I dati nazionali riferiti al triennio 2019-2021 sono pari a 5.000 infortuni riconosciuti attribuibili a episodi di violenza e aggressione. In Liguria si parla di 300 casi per lo stesso triennio. Teniamo presente che questo dato è sottostimato, è solo la punta dell'iceberg. In base a una pubblicazione del 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità si parla di una sottonotifica del 70%. Quindi capiamo bene che il fenomeno è... Quindi si parla di un terzo rispetto a quello che invece è il fenomeno più sommerso. Ecco, allora questo sommerso rende anche più gravi le ricadute su quello che è il personale? Questo sommerso rende difficile anche quantificare correttamente il burden of disease, cioè il carico di malattia legato a questi episodi di violenza, attribuibili all'impatto del danno fisico subito, anche in termini di giorni di lavoro persi e di burnout degli operatori sanitari. Quindi non consentendo di quantificare correttamente questo fenomeno non ci consente neanche di mettere in campo quelli che possono essere tutte le misure di prevenzione. Certo, delle risorse per sostenere queste persone. Ecco, detto ovviamente, ma lo ribadiamo, che sono atti ingiustificabili che poi hanno anche spesso conseguenze legali e responsabilità individuali. In quali contesti è più facile, diciamo, che maturino questo tipo di aggressioni? Allora, negli anni si è assistito a uno spostamento, diciamo, di questi episodi dall'ospedale al territorio, proprio per una diversa modalità organizzativa di proporre l'assistenza a livello territoriale. Teniamo presente che come misure di prevenzione la prima e la più importante è sicuramente parlarne, proprio per fare luce su questo cono d'ombra di sottonotifica, che non ci consente di disporre di tutti gli elementi che ci appunto consentirebbero di contrastare il fenomeno in modo più efficace. Naturalmente è importantissimo anche l'empowerment degli operatori sanitari in termini di formazione mirata. Tanto stiamo vedendo appunto dei giornali proprio del secolo di oggi che parlano anche di questo fenomeno. Chiudiamo appunto dicendo quali sono magari gli aspetti per prevenire questo tipo, in parte lo stava già dicendo, questo tipo di aggressioni, questo tipo di violenze. Puntare appunto sull'empowerment degli operatori sanitari in termini di formazione mirata a potenziare le capacità comunicative e di riconoscimento della situazione di rischio per poterla fronteggiare in modo più adeguato. Intervenire anche sui fattori organizzativi in termini di rapporto tra operatori sanitari e utenza e disporre di procedure operative chiare. Naturalmente sono importanti anche gli interventi a livello ambientale in termini di illuminazione piuttosto che disporre di sistemi di sorveglianza. Certo. Grazie, grazie dottore. Tra l'altro proprio in questi giorni ci saranno iniziative varie proprio anche in vista della giornata del 12 marzo. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie.